Salve a tutti amici, sono sempre io Emiliano Babilonia, sto effettuando in questi giorni molti test relativi a determinati audioscopi, oscilloscopi, analizzatori di spettro, frequenza di Schumann e tanto altro, relative al mio progetto della costruzione di un radiotelescopio e di tante altre mie ricerche che sto effettuando, sto cercando di creare una camera di compensazione che deve prendere le doppie tecnologie sia in camera aniconica che in camera di Tesla attraverso una schermatura multipla che possa effettuare una sorta di stabilizzazione fisiologica e stabilizzazione neurale per effettuare numerosi test con l'elettroencefalografo che immesso all'interno di questa camera riesce a creare una stanza animoide con la stabilizzazione dell'aura fisiologica durante la notte mentre vengono utilizzate questi anomali disturbi del biocampo fisiologico che vengono immessi attraverso le armi ad energie dirette satellitari sul nostro corpo. Ho creato un nuovo canale su Facebook, Animoidi, il quale qui si parla dell'anima artificiale, delle frequenze dirette sul corpo, delle anomale patologie che vengono immesse sul nostro corpo e come vengono utilizzate le armi ad energie dirette satellitari attraverso i cannoni ad onde convogliate che vengono immessi attraverso i satelliti spia direttamente sul corpo creando gravissime patologie fisiche e psicologiche che ovviamente bruciori e tanto altro. Adesso vi faccio vedere come siamo collegati, i tre satelliti spia servono per la trigonometria satellitare, il quarto satellite c'è l'arma ad energia diretta, il convogliatore che punta sul nostro corpo attraverso la tracciatura diretta fisiologica del punto nostro di localizzazione permanente attraverso la rete GPS che punta le frequenze indotte attraverso l'amplificazione delle patologie che vengono rimappate nel nostro cervello. Questa è la rete mondiale di tutti i satelliti che stanno intorno alla Terra perché tanta gente dice no sono piccoli apparecchietti, si avvicinano con piccoli strumentini, hanno un piccolo cellulare, mi attaccano con queste frequenze, parliamo di oltre 100 miliardi di tecnologia solo nella nazione italiana e parliamo di un sistema che è europeo che opera attraverso la tecnologia del satellite in un puntamento geostazionario che sta a nord e che è in grado di prendere un'area di tutta l'Europa. No persone che ci vengono dietro, no persone che stanno dentro l'aereo, no persone che stanno nelle case a fianco, vicini, di sotto, di sopra, quello è quello che ci vogliono far credere per destabilizzare il nostro ragionamento, destabilizzare le nostre credenziali celebrali alle persone che ci conoscono perché noi parliamo di queste cose e diciamo delle cose inverosimili e quindi siamo considerati dei schizofrenici pazzi malattimemente con manie di persecuzione, il quale questo sistema crea proprio la depistazione dei eventuali nostri ragionamenti attraverso le armi ad energie dirette, attraverso la manipolazione indotta all'interno dei centri nervosi con manipolazioni visive, manipolazioni mentali, frequenze dirette sul corpo, destabilizzazioni fisiologiche, cambio di umore e tanto altro, bruciori sul viso, io ho due chiazze nere, una parte destra, una parte sinistra e tanto altro. Adesso vi faccio vedere, questa è una macchina che praticamente viene effettuata attraverso la stabilizzazione delle frequenze fisiologiche sul corpo, vi fa vedere, ci sono numerose persone che stanno su un prato, loro puntano con uno scanner e con telegamere sia termiche, telegamere a raggi X, telegamere a infrarossi, in un'area circondariale. All'interno di quest'area circondariale si può vedere perfettamente dalle telegamere come localizzano il nostro corpo e come ci puntano a distanza, ma stiamo parlando di tecnologie che costano centinaia di milioni di euro, con oltre 100 miliardi di tecnologie a livello di rete. Vedete le telecamere termiche e le telecamere a infrarossi? Come ci vedono perfettamente? Hanno una scansione del punto di localizzazione dove noi stiamo e puntano la frequenza direttamente sul corpo e sanno qual è il nostro corpo perché veniamo irradiati da un puntamento latitudinale e longitudinale attraverso un giroscopio, un giroscopio a frequenze elettromagnetiche che immettono una frequenza ionizzante sul nostro corpo e che creano praticamente il punto esatto della nostra latitudine e longitudine, sia attraverso il collegamento del cellulare che sia attraverso il collegamento del puntamento satellitare, però questa tecnologia viene effettuata attraverso il sistema primario di locazione. Ovviamente state vedendo come è fatta la macchina che viene messa praticamente su un camion o che viene messa praticamente su un car armato. Queste macchine non sono piccole perché devono avere un'alimentazione di parecchi kilowatt per poter essere utilizzate per irradiare questo raggio che è invisibile, è una frequenza a microonde, a onde convogliate che dovrebbe essere la stessa identica frequenza sparata attraverso una frequenza laser o ad energia diretta convogliata o a frequenze convogliate sul corpo che ricrea la frequenza del dolore. Noi prendiamo un elettroencefalografo, ce lo mettiamo in testa, poi ci pungono la puntura sul braccio, sulla gamba, viene analizzata dal sistema dell'elettroencefalografo attraverso una mappatura cerebrale. Loro riprendono questa frequenza, la decodificano attraverso un analizzatore di spettro o attraverso un decodificatore di mappatura cerebrale, la immettono in un elaboratore dati, l'elaboratore dati riconverte questa frequenza e la rimette in un cannone a particelle ionizzanti o un cannone a frequenze a microonde o un cannone a particelle laser che spara in un punto la frequenza che deve essere ricreata sul nostro corpo. Un saluto amici di Emiliano Pabilonia, scrivetevi e cerchiamo di risolvere il problema. Un saluto a tutti!